Salve a tutti, in questo video vorrei parlare di tre questioni. La prima è lo scontro che ho avuto con Deborah Serracchiani a Rete4 da Bianca Berlinguer, la seconda questione sono le dichiarazioni di Salvini sulla morte di Navalny e la terza questione sono le dichiarazioni di Putin, lusinghere direi, nei confronti dell'Italia. Spero di ricordare tutti questi temi perché, come sapete, parlo a braccio e questi video sono completamente improvvisati, sono chiacchierate tra amici, ma ad ogni modo questi sono i tre temi che vorrei toccare oggi in questo video. Prima però devo fare una breve comunicazione di servizio e una premessa, rispondere anche ad alcune domande sul perché io stigmatizzi così tanto le democrazie occidentali, cioè cercherò di spiegare, prima di entrare nel vivo dei tre argomenti indicati, cercherò di spiegare quale sia il mio progetto pedagogico culturale, perché tutto quello che dico in televisione, quello che faccio in questi video, si può comprendere soltanto una volta che sia chiaro il mio progetto pedagogico culturale, cioè i fini pedagogici e culturali che perseguo. La prima comunicazione di servizio sono scuse nei confronti degli abbonati di sicurezza internazionale.com, il sito di cui sono direttore, perché la prossima diretta con gli abbonati si terrà il 29 febbraio dalle 19 alle 20 e non come erroneamente avevo detto nel video su Paolo Mieli il 24 febbraio. Si terrà il 29 febbraio dalle 19 alle 20, la diretta mensile con gli abbonati di sicurezza internazionale.com, che è anche il primo sito in Italia per numero di articoli pubblicati sulla politica internazionale, ne pubblichiamo oltre 400 al mese. Vengo adesso alla prima domanda, la domanda è, professor Orsini, perché lei critica così tanto le democrazie occidentali? Adesso la ragione è molto semplice, perché io faccio parte di una rete di attivisti dei diritti umani, di difensori dei diritti umani, e faccio parte di una rete internazionale che lotta contro i processi di radicalizzazione verso la violenza politica e quindi anche di radicalizzazione verso le guerre, perché le guerre rientrano in quella categoria sociologica più ampia che prende il nome di violenza politica, cioè le guerre tra gli stati sono un tipo particolare di violenza politica, anche il terrorismo è un tipo particolare di violenza politica, la violenza politica è un contenitore molto grande che ricomprende vari tipi di violenza politica, tra cui le guerre tra gli stati. Ora, la ragione è molto semplice. Quando una civiltà è molto potente e molto armata, è il caso dell'Occidente, se questa civiltà si convince di essere moralmente superiori a tutte le altre, generalmente commettere gli stermini. Non soltanto commettere gli stermini in nome della propria superiorità morale, o meglio, della propria presunta superiorità morale, ma li giustifica anche e li nobilita. Ad esempio lo sterminio del popolo iracheno, voi sapete che nell'Occidente le democrazie occidentali hanno realizzato una serie di guerre illegali in violazione del diritto internazionale, una di queste nel 2003 contro l'Iraq, che ha causato la morte di almeno 600.000 civili. E l'argomento che veniva utilizzato dalle democrazie occidentali, sì, noi ci stiamo lavando le mani nel sangue dei musulmani in Iraq, ci stiamo lavando le mani nel sangue dei bambini iracheni, però è giusto farlo perché noi esportiamo la democrazia. Quindi io, richiamando l'attenzione sul fatto che le democrazie occidentali sono, come adesso verrò a documentare, sono fondamentalmente un'organizzazione criminale, io cerco di ridurre l'esaltazione collettiva basata sull'assunto indimostrato, secondo cui l'Occidente sarebbe una civiltà superiore, per frenare i processi di radicalizzazione. Quindi io lavoro per un mondo più pacifico e cerco di lottare contro le democrazie occidentali nella misura in cui queste pensano di essere moralmente superiori rispetto alla Russia, moralmente superiori rispetto all'Iran, moralmente superiori rispetto alla Corea del Nord, e questi video forniscono materiale impidico per smontare questa tesi. Quindi io ho molte cose da spiegare a Deborah Serracchiani in questo video. In primo luogo io voglio documentare la mia tesi secondo cui le democrazie occidentali siano un'organizzazione criminale. E le prove empiriche che porto a sostegno di questa mia affermazione sono molto numerose. La prima è che nessuno come l'Occidente ha violato il diritto internazionale e i diritti umani, appunto come le democrazie occidentali, negli ultimi 30 anni. Negli ultimi 30 anni le democrazie occidentali hanno realizzato tre guerre illegali in violazione del diritto internazionale, sterminando interi popoli. La prima guerra illegale in violazione del diritto internazionale è stata condotta nel 1999, il bombardamento nato della Serbia è una guerra iperillegale e la guerra contro l'Iraq del 2003, cui ho già fatto riferimento, altra guerra illegale in violazione del diritto internazionale, il bombardamento nato della Libia del 2011, altra guerra illegale in violazione del diritto internazionale. A ciò bisogna aggiungere lo sterminio del popolo palestinese, l'occupazione da parte delle democrazie occidentali, non soltanto d'Israele dei territori palestinesi, l'appoggio delle democrazie occidentali allo sterminio di Gaza. Considerate che, mentre vi parlo, poche ore fa, Biden ha posto per la terza volta il veto in seno al Consiglio di Sicurezza dell'ONU per fermare lo sterminio di Gaza. Quindi il veto Biden ha posto per la terza volta, il veto ha una risoluzione per il cessate, il fuoco umanitario per fermare il massacro di Gaza, dove sono stati uccisi 29.000 palestinesi, dove le democrazie occidentali, dove la Commissione europea, dove la Casa Bianca e dove Israele, tutti e tre insieme, si stanno lavando le mani nel sangue dei bambini palestinesi. E già soltanto questo dato aiuterebbe a comprendere, a fornire l'evidenza empidica per smentire la tesi secondo cui le democrazie occidentali sarebbero moralmente superiori alla Russia, all'Iran, alla Corea del Nord, alla Siria, alla Cina e così via. Un'altra violazione del diritto internazionale è compiuta in Siria perché gli Stati Uniti a partire dal 2012 hanno avviato un programma, questo lo dico a Deborah Serracchiani, hanno avviato un programma per rovesciare il governo siriano che si chiama Timber Sicamor, questo è in violazione del diritto internazionale. Il programma Timber Sicamor è un programma segreto della CIA, voto a dare armi ai ribelli siriani, quindi voto ad alimentare la guerra civile siriana dall'esterno, facendo in modo che non finisca mai, per rovesciare Bashar al-Assad e sostituirlo, cara Deborah Serracchiani, con un presidente filo americano. Timber Sicamor è stata scoperta intorno alla metà del 2016, cara Deborah Serracchiani, dalla stampa americana che ne ha rivelato l'esistenza. Inoltre gli Stati Uniti violano il diritto internazionale in Siria, dove hanno una base, occupando illegalmente il territorio siriano, questa base si chiama base di Al-Tanf, si trova in una posizione strategica importantissima, ne ho già parlato in un altro mio video, e la motivazione che è stata adotta dalla Casa Bianca per giustificare questa violazione del diritto internazionale è cambiata con il tempo, fino a quando Trump non ha messo tutti in imbarazzo, dichiarando, notizia cara Deborah Serracchiani, che è stata riportata anche dal Washington Post, ha dichiarato che gli Stati Uniti sono ad Al-Tanf, quindi in Siria, illegalmente per rubare il petrolio ai siriani, per rubare il petrolio in Medio Oriente, cara Deborah Serracchiani. E che cosa è successo? Adesso veniamo al discorso dello scontro con Deborah Serracchiani, che cosa è successo a Rete4? Era in collegamento, l'era in studio, quindi con la solita prepotenza di chi è in studio, mi dava continuamente sulla voce, e io chiaramente ero in grandissima difficoltà, perché in collegamento la voce arriva in ritardo, non senti bene quello che ti viene detto. Io ho fatto un intervento per spiegare che la classe dirigente italiana è una classe completamente corrotta, una classe stracorrotta, e ho cercato di spiegare che il termine che utilizzo, ma l'ho fatto mille volte nei miei articoli per il Fatto Quotidiano, in questi video, il termine corruzione non ha il significato inteso da Deborah Serracchiani, che ha digiuno di qualunque strumento concettuale per comprendere quello che ho detto l'altra sera a Rete4. Non significa la bustarella, la corruzione in quel senso, è un termine che si trova nella sociologia politica di Vilfredo Pareto, autore dal quale sono stato molto influenzato, perché sono stato molto influenzato dalla tradizione del realismo politico italiano, cioè da Machiavelli, da Robert Michels, da Gaetano Mosca e da Vilfredo Pareto, molto da Vilfredo Pareto in particolare. Vilfredo Pareto spiega che le classi dirigenti si definiscono corrotte quando hanno sbarnito la loro capacità di guida. Quindi tu puoi avere anche una classe dirigente di persone onestissime, che non rubano, che sono oneste, che pagano le tasse, tutto quello che vi pare, che tuttavia sociologicamente è una classe dirigente corrotta perché ha smarrito la sua funzione di guida, la sua funzione di governo. E il fatto che la classe dirigente italiana sia completamente corrotta è dimostrato dal fatto che tutte le decisioni che ha preso con riferimento alla guerra in Ucraina sono contrarie agli interessi nazionali dell'Italia, perché la guerra in Ucraina sta massacrando l'economia italiana, sta compromettendo le possibilità di sviluppo del nostro paese. In Italia c'è una censura sulle conseguenze economiche negative della guerra in Ucraina sul nostro paese, perché non bisogna informare gli italiani del fatto che tante persone perdono il posto di lavoro, tante imprese sono strozzate a causa della guerra in Ucraina, quindi non ci sono indagini al riguardo, non se ne parla. E questa è la prima ragione per cui affermo che la classe dirigente italiana è una classe dirigente corrotta, cioè la prima prova. La seconda prova è che la classe dirigente italiana continua a nascondersi dietro lo slogan c'è un invaso e c'è un invasore per giustificare il fatto di non sviluppare nessun ragionamento, nessuna riflessione sul modo in cui uscire dalla tragedia dell'Ucraina. Perché mentre, tra altre cose, Deborah Serracchiani si è anche freggiata di essere stata capogruppo alla Camera, cioè lei si è freggiata di avere inviato armi in Ucraina sostanzialmente, allora ricordiamo a Deborah Serracchiani che quelle politiche sono le politiche di Biden che l'Italia ha recepito senza fiatare, sono le politiche decise da Biden per l'Italia e che quelle politiche hanno causato il massacro del popolo ucraino, perché le politiche di Biden in Ucraina hanno condotto alla sconfitta dell'Ucraina, spieghiamo anche questo a Deborah Serracchiani perché evidentemente non è informata, l'Ucraina ha perso la guerra, cara Deborah Serracchiani, ha perso la guerra rovinosamente e definitivamente, immagino che lei non sappia nulla di quello che accade sul campo in Ucraina, glielo dico io. L'ultima sconfitta è stata quella di Abdibka, probabilmente la battaglia più importante della guerra, anche più importante della battaglia di Bakhmut, cara Deborah Serracchiani, grazie alle sue politiche, l'Ucraina adesso è senza armi, senza munizioni, senza soldi, senza soldati, un paese semidistrutto, il PIL della Russia cresce, la Germania è in recessione, quindi io affermo, nel senso inteso da Vilfredo Pareto, che la classe dirigente italiana è una classe dirigente corrotta perché ha smarrito la sua funzione di guida, perché ha preso decisioni senza riflettere sulle conseguenze delle proprie decisioni e le conseguenze per l'Italia sono soltanto e solamente disastrose, tanto più che adesso l'Italia si trova in una situazione stressogena che il nostro sistema paese non è in grado di reggere sul lungo periodo, senza conseguenze molto negative per i poveri, per i disoccupati, per i disperati, per le persone che hanno bisogno di assistenza medica e non hanno soldi per comprarsi medicinali, cioè la possibilità di una guerra nel Mar Rosso con gli uti e l'allargamento della guerra, eventualmente anche all'Iran, e l'altra guerra chiaramente in Ucraina. Il nostro paese non ha le forze, tant'è vero che noi andiamo a fare la guerra nello Yemen con una marina fondamentalmente disarmata, come ha spiegato il ministro Grosetto in Parlamento, ha detto noi abbiamo, le nostre navi hanno soltanto 63 missili, consideri, cara Deborah Serracchiani, che con 63 missili non riesce a fare nemmeno una battaglia ad alta intensità di 30 minuti. E ovviamente io ho il massimo rispetto per l'esercito italiano, che amo profondamente, così come tutti gli uomini della marina militare, io non mi riferisco a loro, al loro valore che è grande, per il quale io nutro il massimo rispetto, io mi riferisco al fatto che la marina militare sia disarmata, nel senso che l'Italia non è attrezzata per fare guerre, né in Ucraina contro la Russia, e nemmeno nel Mar Rosso, eventualmente contro l'Iran, che ha un arsenale missilistico semplicemente spaventoso, semplicemente spaventoso, l'Iran ha un arsenale missilistico spaventoso, che ovviamente preoccupa molto gli Stati Uniti, ecco perché gli Stati Uniti sono così guardinghi nei confronti dell'Iran, perché hanno paura anche di buscarle di santa ragione dall'Iran, perché l'Iran ha un arsenale missilistico spaventoso. Questo per... quindi che cosa è accaduto durante la trasmissione? Che la litigia dove è nato? È nato perché ho fatto un intervento, la Serracchiani ha preso la parola e in qualche modo mi ha offeso, perché ha detto lei gioca al risico, ma soprattutto ha... che ovviamente è un argomento offensivo nei confronti di uno studioso che si occupi di queste questioni per lavoro. A quel punto abbiamo iniziato a polemizzare, a scontrarci, e la Serracchiani ha pronunciato la tipica frase che io invito gli studenti a non pronunciare mai, perché gli studenti si dividono in studenti di serie A e studenti di serie B. Gli studenti di serie B sono quelli che intervengono in un dibattito pubblico con gli argomenti della Serracchiani, cioè la Serracchiani ha detto e lei in Russia non potrebbe dire queste cose. Ora, quello che io voglio dire ai ragazzi che mi ascoltano, io ho il grandissimo onore di essere seguito anche da tanti studenti delle scuole superiori, è questo. In primo luogo, siete sempre fieri di dire io sono italiano, io sono un pacifista, perché è in atto una campagna di demonizzazione, di criminalizzazione dei pacifisti italiani. Comunque, questo l'ho spiegato nel video precedente, quindi lì sono andato più nei dettagli, ho spiegato che cosa sia la manipolazione pubblica, scusate, la manipolazione dell'opinione pubblica mediante controllo dei quadri cognitivi, l'ho spiegato nel video precedente, che appunto è in atto una campagna di criminalizzazione nei confronti del movimento pacifista. La seconda cosa che vorrei dire agli studenti che mi seguono con mio grandissimo onore è questo. Quando vi trovate a dirimere una controversia intellettuale, non ricorrete mai a questo argomento del tipo, è a Serracchiani, è però in Russia tu queste cose non le potresti dire. Per quale motivo, per quale motivo, la Serracchiani ha esibito un argomento di basso livello intellettuale? Perché Niklas Luhmann, grande teorico dei sistemi, uno dei più grandi teorici sociali del Novecento, ha spiegato che tutti i sistemi sociali processano le informazioni attraverso un codice binario e il sistema scientifico, il sistema sociale della scienza, chiamatela come volete, la comunità scientifica, processa le informazioni attraverso il seguente codice binario, vero falso. Quindi dal punto di vista scientifico ciò che conta non è se un'affermazione venga pronunciata in Italia o in Russia, ma se sia vera o se sia falsa. Quindi se io vado in televisione e dico alla Serracchiani, guardi Serracchiani, che dati empirici alla mano, le democrazie occidentali violano il diritto internazionale più della Russia, più della Cina, più dell'Iran, più della Siria, più della Corea del Nord, la Serracchiani non può rispondere senza fare una figuraccia dicendo, eh ma lei in Russia queste cose non potrebbe dirle, o magari altre persone mi hanno detto, eh in Russia le queste cose non potrebbe dirle, altrimenti le arresterebbero. Perché non conta se io certe cose le dica in Italia o in Russia dal punto di vista scientifico, conta soltanto se abbia detto, abbia pronunciato un'affermazione dai contenuti veri o dai contenuti falsi. È di questo che si occupa fondamentalmente la scienza. Il codice binario è vero-falso. Siccome la Serracchiani non ha argomenti, ha dovuto attaccarmi sul piano personale, quindi lei gioca a Risico, a parte il fatto che io gioco a Risico, è stata una grande passione della mia vita, ero anche iscritto a una serie di centri, Risico Club, non dico in quale città, però comunque ho dei ricordi bellissimi, è un tessuto molto rigoglioso, anzi saluto tutti i miei amici con i quali ho fatto centinaia di partiti a Risico, ho partecipato anche a tornei, anche a campionati, quindi chiedo scusa se qualcuno possa essersi dei miei amici. Ho centinaia, ho giocato a Risico con centinaia di ragazzi in tutte le città d'Italia, perché poi facendo parte di questi club io mi spostavo in varie città per giocare a Risico, che è un gioco di strategia militare come tutti sapranno, perciò io vorrei anche scusarmi perché nella diatriba con la Serracchiani magari è sembrato che io fossi, come dire, offensivo nei confronti di chi gioca a Risico, non era questo il mio intento e se qualcuno dei miei amici si è sentito ferito gli chiedo profondamente scusa, anche perché sono stato un giocatore di Risico, ho iniziato a giocare a Risico credo a nove anni e adesso chiaramente gli impegni accademici mi assorbono completamente, quindi non ho più tempo di fare nient'altro che non sia studiare e fare ricerca. Adesso voglio venire alla seconda questione, che riguarda Salvini. Salvini, come sempre, Salvini in Italia è un grosso problema per noi sociologi, vi spiego perché. Perché Salvini è una persona che viene continuamente bersagliata, come noi sappiamo, e questo fa velo ai problemi seri. Faccio un esempio sull'immigrazione. Salvini, voi sapete che io sono un grande amico degli immigrati, ho scritto un libro che si intitola Viva gli immigrati per Rizzoli e il mio progetto culturale è basato sul dialogo interreligioso e sull'accoglienza, quindi la mia posizione sugli immigrati è molto chiara. Ma quando, faccio un esempio, da sociologo parlo, Salvini dice c'è un problema immigrazione e criminalità. Questa affermazione è vera e falsa dal punto di vista scientifico, è vera perché tutte le statistiche ufficiali dell'Istat, del Ministero di Grazie e Giustizia, ci dicono che, se ricordo bene, mi chiedo scusa se sarò impreciso su questo dato, che circa un terzo della popolazione carceraria è composta da immigrati. Quindi questo che cosa significa? Che se noi vogliamo costruire una società più giusta e più libera, dobbiamo cercare di comprendere quali siano le cause di questo problema, eventualmente per combatterle, per cercare di rimuoverle. Se Salvini va in televisione, Salvini o chiunque altro, fate voi, e dice noi abbiamo un problema relativo al rapporto tra immigrazione, immigrazione clandestina e criminalità, e questa affermazione ha un contenuto vero, non si può passare il nostro tempo a bersagliare Salvini perché ha detto una cosa che è fotografata nelle statistiche ufficiali, perché questo fa velo ai problemi, è un po' quello che succede con Navalny. Navalny è morto, tutti quanti a parlare di Navalny, per fare velo al fatto che c'è un massacro in Palestina da parte delle democrazie occidentali. Questo problema sociologico si è posto di nuovo con Navalny. Quindi per chiarire, io che sono un grandissimo amico degli immigrati, io che sono per l'accoglienza, io che sono per aiutare le persone che vengono dall'Africa, dico che proprio perché io amo gli immigrati voglio capire quale sia il problema, voglio capire perché le carceri italiane siano iperaffollate da immigrati, perché voglio una società che possa accogliere gli immigrati, ma io non riuscirò mai a realizzare il mio modello di società se c'è un problema così grande relativo al rapporto tra immigrazione e criminalità. Ecco, quindi veniamo adesso a quello che ha detto Salvini. Salvini adesso è bersagliato perché ha detto, se ricordo bene, io non posso essere sicuro che Navalny sia stato ucciso da Putin, cioè che Putin abbia alzato il telefono, abbia chiamato le guardie carcerarie, il direttore del carcere abbia detto assassinate Navalny. Questa è una risposta che qualunque studioso, qualunque scienziato sociale vi darebbe, perché anche a me è stata rivolta questa domanda, siccome il codice scientifico è vero o falso, io non ho i documenti per poter affermare che Putin abbia ordinato l'assassinio di Navalny. Chiaramente io condanno il regime detentivo, questo lo sottoposto Navalny, come il regime detentivo qui è sottoposto a Sange, che per molti aspetti è sottoposto a vere e proprie torture. Ma da studioso non ho i documenti. Quando c'è stato, quando è esploso il Nord Stream 2, ricorderete, la Berlinguer mi chiese, professore ma è stata la Russia? E c'era con me in trasmissione una delle firme di punta all'epoca dei fatti su Rai 3, del Corriere della Sera, che disse, secondo me è stata la Russia. Io dissi, io non ho elementi per poter affermare che siano stati gli Stati Uniti o la Russia. Induco a ritenere che non sia stata la Russia perché il Nord Stream 2 è di proprietà per il 50%, almeno se ricordo bene, della Russia. È un investimento strategico importantissimo e la scienza politica, la sociologia politica insegna che nessuno Stato attacca i propri investimenti strategici, semmai li difende. Ma non mi sono permesso di dire in quella circostanza il Nord Stream 2, io lo pensavo chiaramente, è stato bombardato dalle democrazie occidentali, cioè dall'Ucraina o dagli Stati Uniti o dall'Ucraina in combutta con gli Stati Uniti, ma adesso l'evidenza che sta venendo fuori è questa, che il Nord Stream 2 è stato colpito dai servizi segreti ucraini. Non sappiamo se è quella complicità degli Stati Uniti, probabilmente non lo sapremo mai perché Assange è in carcere e quindi noi non abbiamo giornalisti coraggiosi come Assange che possano pubblicare questi documenti nel caso in cui vengono in possesso di questi documenti. Però adesso la guerra è chiaramente contro Salvini perché bisogna spostare l'attenzione su di lui e questo fa velo ancora una volta ai problemi, i problemi reali. Vediamo adesso alla terza questione, quello che Putin ha detto con riferimento all'Italia. Putin, che credo è una studentessa italiana, di origini italiane, io chiaramente mi scuso sempre per eventuali imprecisioni, che come dico parlo a braccio, quindi avrebbe rivolto una domanda a Putin circa l'Italia e Putin avrebbe pronunciato delle parole lusiniere verso il nostro paese dicendo io ancora oggi ho degli amici in Italia, l'Italia ci è sempre stata vicina eccetera eccetera. Ovviamente la reazione di una classe dirigente completamente corrotta in senso paretiano, cioè che ha smarrito la propria funzione di guida, è di insultare Salvini, di insultare Salvini, i pacifisti, incluso il sottoscritto, perché Putin ha rilasciato queste dichiarazioni. E quindi Putin pronuncia parole lusiniere, un'apertura verso l'Italia, di fatto è questo, un'apertura diplomatica verso l'Italia, una classe dirigente avveduta, una classe dirigente virtuosa, che cosa fa? Coglie la palla al balzo per, assumere il ruolo strategico della Turchia in seno all'Unione Europea, perché una delle grandi tragedie attuali, ed è una delle ragioni per cui la guerra in Ucraina non finisce, è che non c'è un paese dell'Unione Europea che possa fare da mediatore, perché tutti i paesi dell'Unione Europea sono stati egemonizzati dalla Casa Bianca e fanno quello che dice Biden, nonostante l'Ucraina sia un paese finito, distrutto, senza più futuro e che abbia perso la guerra. Quindi io che cosa mi sarei aspettato? Che cosa dovrebbe fare una classe dirigente illuminata? Avrebbe dovuto dire, caspita, questa è un'apertura diplomatica di Putin nei confronti dell'Italia, l'Italia per tutelare i propri interessi nazionali si deve gettare in questa apertura diplomatica e assumere un ruolo di guida, un ruolo moderatore, assumere fondamentalmente il ruolo della Turchia, perché poi ne siamo ridicoli, perché quando vogliamo un accordo con Putin chiediamo a Erdogan di farlo. Quindi o uno è coerente e non chiede nessun accordo alla Russia, oppure è sciocco investire su un altro paese per fare il lavoro che potrebbe fare l'Italia, o magari potrebbero farlo entrambi. Io voglio molto bene la Turchia, quindi per carità i turchi sono un popolo meraviglioso, sono stato in Turchia, quindi ci mancherebbe altro. Dei turchi posso parlare soltanto bene del fatto che loro stiano svolgendo questa funzione di moderazione e di dialogo, quindi mi scuso, magari mi sono espresso male, non volevo dire che l'Italia dovrebbe scalzare la Turchia, magari dovrebbe affiancare la Turchia, però l'Italia è nell'Unione Europea, la Turchia no. Ecco, una classe dirigente corrotta invece che cosa fa? Putin pronuncia quelle parole, che sono oro colato per l'Italia, e inizia a dire, ah ci sono i putiniani, insulti contro il professor Orsini, oppure viene individuato il leader politico di turno da prendere a parolacce. Ecco, questo per chiarire. Vorlio concludere ricordando che questi video non hanno pubblicità per una mia scelta, perché io ho scelto di non monetizzare con questo canale, nonostante mi siano stati offerti i soldi, chiaramente, per inserire le pubblicità, io ho detto di no, questo è un canale che ho aperto per restituire un po' dell'affetto che ricevo, tante lettere di solidarietà, io sono profondamente grato di questo affetto che mi dà anche tanta forza per combattere le mie battaglie e per continuare a esprimere il mio pensiero liberamente. Detto questo, io non voglio alcun male a Deborah Serracchiani, anzi penso che sia dal punto di vista personale una persona squisita, mi dispiace dello scontro che ho avuto con lei, però io non mi faccio, come dire, chiudere la bocca da nessuno, esprimo il mio pensiero liberamente e ribadisco che la classe dirigente italiana è una classe dirigente stracorrotta, corrotta dalla testa ai piedi per i fatti che ho indicato, ce ne sarebbero tantissimi altri che per motivi di sintesi non posso documentare, ed è corrotta nel senso inteso dalla sociologia di Vilfredo Pareto. Grazie.